L'età media delle persone è in continuo aumento e quindi è in continuo aumento anche l'età media delle persone disabili ed uno dei problemi che si stanno cominciando a porre più persone è quello che sarà delle persone disabili dopo di noi. Il dopo di noi è la domanda a cui alcune società stanno cercando di dare una risposta, di trovare delle soluzioni. Una di queste società è la Pramerica ed è qui rappresentata dal dottore Ermanno Lavarone a cui chiediamo che cosa accadrà dopo di noi. Il dopo di noi è un qualche cosa che deve essere assolutamente pensato prima, deve essere un qualcosa che deve essere organizzato e bisogna affidarlo soprattutto a degli strumenti che diano delle risposte certe e garantiste. Il dopo di noi è un qualche cosa che sta in noi, in tutto ciò che noi facciamo nella nostra quotidianità. È chiaro che riferito al mondo della disabilità è un problema assolutamente vissuto nell'ambito della vita e soprattutto una grossa preoccupazione. Uno strumento assicurativo è uno strumento di certezza che dà garanzie proprio in questi termini. È stato lei che ha voluto fortemente questa presenza a Reatec, perché? Ma Pramerica da sempre fa questo, da quando la 1990 è presente in Italia. Un piccolo giusto per presentarci, Pramerica è Prudential Financial in Italia ed è una realtà assicurativa specializzata unicamente nel ramo vita che attraverso un'attenta verifica delle situazioni personali affidata a consulenti specializzati che il loro nome è Life Planner, mette nelle condizioni tutti di poter organizzare al meglio quello che è il dopo di noi. Quindi per chi viene a trovarvi, voi che cosa riservate? Avete delle iniziative speciali, promozionali o qualcosa di simile? Beh, sicuramente qui in Reatec abbiamo la possibilità di aver organizzato tre workshop di cui uno proprio oggi con il moderatore Marco Liera che penserà proprio al discorso del mondo della disabilità nel mondo del lavoro e altri due appuntamenti, quello di sabato e quello di domenica proprio per cercare di riuscire ad analizzare al meglio tematiche specifiche. Diciamo che abbiamo voluto essere qua presenti con il nostro stand ma soprattutto con i nostri consulenti che sono in grado, i nostri Life Planner che sono in grado di poter aiutare le persone ad avere delle risposte certe. Allora vi aspettiamo tutti allo stand di Pramerica per conoscere questi prodotti e avere delle risposte per il dopo di noi. Grazie. Grazie anche a voi. Grazie.